Oh belli, benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Oggi tutorial molto interessante su un aspetto che molti di voi forse non sanno, come funzionano i gettoni su Monopoly Go. È una roba abbastanza particolare che secondo me ha senso spiegare, quindi ci ho dedicato un video. Mi raccomando voi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Abbiamo veramente tantissime cose da andare a vedere, siamo veramente pieni, pieni di cose. Io sono molto in hype, il gioco mi sta piacendo, sta piacendo a voi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like. Questo è un classico gioco che va, taikun, sali, non sali, vai su, vai su, vai giù, si può giocare con gli amici, si possono fare un sacco di cose. Vi ricordo che il mio link amico è qua sotto, quindi andatelo a recuperare. Se vi siete persi gli episodi precedenti, li trovate qua nelle schede cliccabili, quindi che cosa aspetti, vai subito a recuperarli. Porca miseria ladra. Detto questo, ci catapultiamo immediatamente all'interno del nostro account di Monopoly Go. Vi faccio vedere subito di cosa sono i gettoni, di cosa si parla. Prima che mi dite di cose particolari, di cose non particolari, ragazzi, io ho attualmente 60 di patrimonio netto, 660.000 di soldi che verranno investiti in un altro video, perché ho in mente un video su come appunto salire velocemente, velocemente con la mappa e tutto. Questa è la sezione dei soldi, dei gettoni. Gioca per ottenere premi, colleziona gettoni per premi gli eventi, poi clicca sul pulsante e piovono premi per giocare, modifica il moltiplicatore per ottenere più cose, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, proviamo un giro. Io butto giù di qua, ad esempio. Buttiamo giù il nostro gettoncino di qua. È tipo un pinball, molto 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 carino, è un evento esclusivo, si possono ottenere un sacco di monete gratis. Questo naturalmente poi va a modificare in base al per due, in base a quello che vogliamo modificare noi, ci vengono date delle ricompense aggiuntive. Valutate un po' voi come vi trovate meglio. Dopo vi spiego come si ottengono comunque questi gettoni, perché ce ne sono veramente tanti di metodologie. Vedete qua, 4800, con più buono premi, saliamo su. Adesso la domanda che più sorge spontanea è come si fanno ad ottenere questi gettoni. Bene, c'è questa modalità della festa loca, che sostanzialmente, se ogni volta che raggiungiamo queste caselle, ci vengono accreditate delle cose. Vi faccio vedere. Utilizziamo un per venti, andiamo avanti, non succede niente, perché naturalmente bisogna finire sopra la casellina con il simbolino. E adesso vi faccio vedere cosa succede una volta che ci finisci sopra. Qua non ci finisce ancora sopra, perché ce ne sono ancora poche di caselline. Dovete fare attenzione in base alle caselle che avete voi. Comunque giostratevi bene, diciamo, la quantità di gettoni spesi. Il tabellone di Loris comunque ci prendiamo una bella sbatta in faccia, ma non importa. Andiamo avanti. Guardiamo se ci capita un per venti. Prima ci sono capitati, ecco ad esempio qua. Ci è capitato un per venti con i gettoncini. Ci vengono accreditati 40 gettoncini e questo ci dà 15 gettoni gratis. Capite bene che è tanto 15 gettoni gratis. Più 250 monete se arriviamo a 200. 250 dadi, ragazzi, sono veramente tanti. Io ve lo dico. Tenetevi pronti perché 250 dadi sono leggermente devastanti. Andiamo avanti. Ottenendo i dadi gratis su queste cose qua si possono ottenere robe aggiuntive e così via. Quindi i gettoni gratis si ottengono attraverso questa metodologia. L'offerta di Peggy, che ci sono delle robe particolari, nei negozi si possono ottenere i soldi, i dadi gratis, non gratis. Abbiamo 55 gettoncini da andare ad investire. Si possono fare varie speruculazioni su qual è la miglior metodologia per ottenere quello, quell'altro, quell'altro, quell'altro. Diciamo che non è che c'è una tattica principale, va abbastanza fortuna. Ti può andare fino al per 5, quindi ad esempio io ho tantissimi gettoni, direi che possiamo andare ad investire. Non c'è un modo per ottenere il 100k. Ok, la ricompensa del 250.000 va abbastanza fortuna. Il mio consiglio è puntare su questo pinball che raddoppia i gettoni, perché attraverso robe particolari ti potrebbe andare di fortuna e darti X. Quindi io in generale comunque investo su questa sezione qua di sinistra, la preferisco decisamente. Vedete come ci dà gettoni, non gettoni, insomma, tanta tanta roba. Devo dire che il 250.000 deve andare proprio, proprio tanto di fortuna. Non mi è mai capitato personalmente di ottenere la ricompensa massima, però non si sa mai, eh ragazzi. Cioè, vedete, ad esempio va un po' randomico il tutto. Io la lancio di qua e per qualche motivo strano poi magari va qua a destra e riesco ad entrare proprio nel 250.000. Diciamo che questo è un po' da rivedere come meccanismo. Comunque, il metodo per ottenere gettoni gratis è principalmente quello, quindi mi raccomando investiteci tanto tempo. C'è ancora poco, in realtà, di tempo per sbloccare tantissime cose. Però ha senso, quindi quel giorno che manca utilizzatelo ragazzi per sbloccare questi gettoni, perché possono essere molto utili, i gettoni si possono ottenere i dadi gratis, le monete gratis, insomma, tantissime, tantissime robe. Mi piacerebbe entrare nella ricompensa centrale, ma a quanto pare non mi è possibile. Questo è quello che ho captato in tutto questo periodo qua. Vedete questa roba qua del fatto di rimbalzare più volte sulla ricompensa ti fa ottenere molte più cose. Diciamo che quei 250.000 erano golosissimi, anche questi 30k ragazzi lo sono, non ci lamentiamo. Se mi chiedete Vapor, investi tutto quello che hai, farò un video a riguardo su come farò ad investire tutte le robe. Sarà un video particolarissimo. Buono, 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 18k entrati così fanno molto, molto bene. Finiamo, usciamo di qua e ci vengono accreditati tutti i nostri premi. Quindi 174.000 monete, 20 dadi e tanta tanta roba. Arriviamo per fortuna, sembra che stiamo per arrivare al milione su Monopoly Go, manca veramente poco. Vedete che si va avanti e attraverso le caselline noi possiamo ottenere un sacco di robe particolari. Qua finiamo sopra questo affitto particolare e ci ottengono un sacco di monete, di robe molto, molto belle. Insomma, la mia tecnica principale per ottenere gettoni è utilizzare il per 20, sperare di capitare sopra perché capite bene che con un per 20 si ottengono tante ricompense perché 40 gettoncini a botta, ragazzi, lo vedete nel video di domani e tanta roba. Io qua vado molto a caso, non ho delle tecniche principali su come ottenere soldi, non soldi, sulle rapine. Farò tutti dei video particolari dove vi spiego come, secondo me, si può un attimo cambiare la probabilità di trovare delle cose. Questo era un video sui gettoni. Me l'avete chiesto in tanti, ma avete detto ma perché ci sono questi gettoni, che cosa sono, cosa non sono? Questi sono i gettoni. Quindi fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, io come al solito aspetto calorosamente la vostra opinione. Ci vediamo domani all'ora e 14 con un nuovo video, molto, molto carino, sarà il video di domani, un video particolare, sempre su Monopoly Go. Sto tornando a Steckham perché secondo me il gioco ha potenziale, se non faccio uscire questi video adesso poi non escono più. Vi aspetto qua sotto nei commenti, commentate se anche voi utilizzate questa tecnica per ottenere i gettoni. Se ne conoscete altre, io sono naturalmente qua sotto disponibile a rispondere, a sapere nuove cose. Se no, noi ci vediamo domani all'ora e 14 con un nuovo video molto, molto goloso e oggi alle 18 per quelli che sono appassionati di video show.